Solo il 32% dei votanti si è arricata alle urne per votare il referendum abrogativo sulle trivelle. Non è stato raggiunto il quorum e a niente sono valse gli appelli di associazioni ambientaliste e forze politiche lanciati nell'ultimo mese. La regione con l'affluenza più alta è stata la Basilicata, proprio dove, settimane fa, è esploso il caso che ha portato alle dimissioni del ministro Federica Guidi. La regione con l'affluenza più bassa, invece, è stata la Campania, con il 17%. Poca informazione e tanta confusione sul caso, questo il rimprovero da parte di chi si era prodigato attivamente. Data la mancanza di election day, date le tre settimane, 14 milioni di italiani che vanno a votare e dicono al governo Renzi che deve cambiare la propria strategia energetica, non sono un risultato di poco conto. Poi volevo sottolineare una cosa, in Abruzzo, in Basilicata, ovviamente, ben si conosce il petrolio, si è superato il quorum. In Abruzzo le città e le zone che hanno superato il quorum sono quasi tutte sulla costa tetina e questo è un segnale importante per quel famoso parco nazionale della costa tetina e della costa tra bocchi che stiamo aspettando. A questo punto cosa succederà da qui in poi? Ma intanto la battaglia continua e non stiamo valutando un'ipotesi, un ricorso alla Commissione europea. Tenga conto di un particolare, il regalo che Renzi ha fatto ai petrolieri concedendo le concessioni senza limite, in contrasto con la direttiva europea, la 22 del 94, che regola la concorrenza nel settore degli idrocarburi. Per cui o questa norma cambia oppure prima o poi arriveremo a pagare una multa. Spero che Renzi, per averci preso in giro con un referendum lontano dall'Election Day, averci fatto buttare 360 milioni per cercare di non ottenere il quorum, non abbia il coraggio di farci pagare anche la multa. Grazie.